Grazie a tutti. La Guamiana Wave è un tamburo che batte e ti scaga il cazzo, sapevatelo. La Guamiana Wave è un tamburo che batte e ti scaga il cazzo, sapevatelo. Interessi comuni e una voglia di portare in Garfagnana non solo, un'idea alternativa di quelle che sono le feste, quelle che sono l'aggregazione sociale, di quelli che sono i valori, riprendendo e ripartendo da quelli che erano valori di resistenza fino a quelli dei valori di bene comune, di sostenibilità, di integrazione e di altre forme di aggregazione sociale che non sono solamente quelle che abbiamo impallato. La Guamiana Wave nasce con queste direttive. La Guamiana Wave ritorna nella Fortezza di Verrucule dopo alcuni anni e si ripropone in una location veramente suggestiva con l'intenzione di dare un segnale forte a quelle che sono le feste anche in tema di sostenibilità ambientale. Tutte le attività e soprattutto il mangiare, le posate, i bicchieri sono in mother bill, il cibo viene dalla valle, è più possibile a chilometri zero, cerchiamo di dare un segnale che sia anche di sostenibilità e di crescita locale, puntando a quello che è un federalismo energetico e diciamo sociale, in un'alternativa nostra, non certo leghista. Però ci crediamo, crediamo che possiamo dare un segnale a quello che poi ci interessa. Grazie 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 Grazie. 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 Cioè è una festa di pasticceria ben rumata, affogata nel rum e fra bene. Nel rum 70 gradi? Che rum conosci di Garfagnana? No, lo specifico per chi magari non è della zona per chi non conosce il rum. Che bello! Che spettacolo! Bravo! Ho appena perso una verginità mangiando salami di muflone e perderò un'altra mangiando il pan brigante. Grazie a tutti! 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 Siamo entusiasti per prendere, avete trovato un'alternativa per divertire, è una bella festa, poi sono anche bravi i gruppi, siamo molto contenti di essere venuti per vederli, veniamo da lontano, centinaia di chilometri da qui, via diciamo, bello, 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 che bene, prima volta ma ci si riferisce, poi qua sotto, è bellissimo, dai, we're going, no, la mia voce, l'ingrediente è fondamentale e sai cosa vede. Un brinco dell'eternità, per giudicare gli ostacoli che, la mente si pone, la contraddizione, luce che non c'è. Un brinco dell'eternità, per salvare gli ostacoli, luce che non c'è, luce che non c'è. Un brinco dell'eternità, per salvare gli ostacoli, luce che non c'è, luce che non c'è. Un brinco dell'eternità, per salvare gli ostacoli, luce che non c'è, luce che non c'è. Un brinco dell'eternità, per salvare gli ostacoli, luce che non c'è. Un brinco dell'eternità, per salvare gli ostacoli, luce che non c'è. Un brinco dell'eternità, per salvare gli ostacoli, luce che non c'è. Un brinco dell'eternità, per salvare gli ostacoli, luce che non c'è. Un brinco dell'eternità, per salvare gli ostacoli, luce che non c'è. Grazie, buonasera. Grazie briganti. Grazie. 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 Grazie.